Ci troviamo presso gli spazi espositivi dello Charme in Santa Fosca e in occasione della mostra collettiva dal titolo Dreaming of Venice, dalla quale possiamo ammirare due potenti astratti realizzati dall'artista Marilena Faracci. Quindi queste due opere, seppur potenti e seppur di impatto, vogliono rappresentare ciò che l'artista prova di fronte alle grandi domande dell'uomo. Da una parte il tentativo di cogliere l'infinito, dall'altra parte il tentativo di cogliere o di far emergere delle emozioni, perché come ho già detto poc'anzi, queste opere si appaiono di un colore che è sì disteso attraverso la tecnica dell'astratto, ma si attensa di forti significati simbolici. Quindi sono due opere potenti sul piano visivo, ma sul piano interiore e intimo molto molto emozionali.